Il territorio lecchese unisce le forze per superare lo stallo post-lockdown e rilanciare l'economia. Si è insediato presso la sede lecchese della Camera di Commercio, alla presenza dei vertici delle istituzioni, delle associazioni e dei rappresentanti politici regionali, nazionali ed europei, il tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco, evoluzione dell'iniziativa nata dall'amministrazione provinciale in risposta alla crisi del 2008. coordinato da Lorenzo Riva, vicepresidente della Camera di Commercio di Como Lecco e presieduto da Marco Galimberti, presidente dell'ente camerale, il tavolo ha l'obiettivo di individuare opportunità e risorse disponibili e definire gli interventi da mettere in atto alla luce dei bisogni più impellenti per il tessuto economico lecchese. Partiranno da subito tre gruppi di lavoro. Il gruppo Riparti Lombardia, coordinato da Antonio Peccati, che andrà ad analizzare le iniziative e i progetti da presentare alla regione per accedere allo stanziamento di 3 miliardi di euro per misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale. Il gruppo Bandi Emblematici Maggiori Cariplo, coordinato da Daniele Riva, che cercherà di fare sintesi su tutti i progetti e le iniziative a favore dello sviluppo culturale, economico e sociale che il territorio lecchese vorrà presentare a Fondazione Cariplo per i finanziamenti del 2021. E infine il gruppo Giochi Olimpici 2026, incaricato di analizzare le iniziative e gli interventi utili da sviluppare in vista dei giochi invernali, affinché il territorio non sia ambito di mero passaggio ma di attrattiva per viaggiatori e appassionati. Il tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco si riunirà di nuovo il prossimo 14 settembre.